Ciao a tutti, sono Fabio, un lifetime del progetto Sfera. Volevo brevemente esporvi la mia personale esperienza con i prodotti Benefil. Ebbene, li assumo da quasi quattro mesi ormai. Da quando li ho iniziati ad assumere ad oggi, sto notando questi due cambiamenti, questi due miglioramenti che avevo il piacere di comunicarvi. Un maggiore assottigliamento della pelle e soprattutto una diminuzione della ritenzione idrica all'altezza delle gambe. E delle cosce, per essere più precisi, che da sempre sono state il mio tallone d'Achille. E quindi, diciamo che con l'aiuto di questi integratori, ovviamente con gli uvati dall'alimentazione e dal corretto allenamento, sempre dati dalla Sfera, ti danno quel boost in più per arrivare più velocemente possibile al raggiungimento dei nostri obiettivi, che alla fine è quella la cosa molto più importante. Detto questo, vi ringrazio e alla prossima!